Con Correia ci confrontiamo con un tema scomodo, decisamente scomodo. Valentina Arduini, non ci vuole molto a intuire di cosa si parla. È il tema della Vanitas ed è un tema che va trattato appunto perché si lega sempre alla bellezza attraverso un artista accademico a tutti gli effetti che ha veramente una tecnica artistica perfetta e perché la bellezza è sì un dono anche estetico ma è comunque effimero ed è destinato a finire e quindi ne riconosciamo il valore che ci viene donato sapendo che dovremo poi ad aspirare ad altro.